stasera ho la mia doppia da bu oh preso no 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 fai il luogo ci è avvocato il luogo da una vera papi oh ciao ah volevi spandare vicino a me mi spiace pretendina sei spandato molto lontano oh che me ne scappo ah la ti è scappata una banana ah oh stai caricando oh volevi sopra highlight di samuel no non ci riesci non ci riesci ciao oh volevi no sei con la dinamica volevi e io volo su e volo giù che stai eh non lo so no oh hai sparato una banana tiratela in faggio scivolo 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 oh no zero zero ancora si butta del vanni vanni butta del vanni oh mi ha salvato la campana ahhh preso ma che ho preso hai preso hai preso hai preso hai preso hai preso ma ha preso ha perso è perso come torno indietro da qui è rimonta la partita 1 a 0 selma no si è buttato giù quel suame il terzo non è finito 1 a 0 selma no è l'ultimo del primo tempo quindi ora facciamo una pausa di 5 minuti e finito il primo tempo pausa fatta mi sono allenato è arrivato il secondo tempo nel frattempo cerco con la mappa tu cambiate la schiena perché ho fatto più no secondo il luogo alema perché non ti ha salvato il check prezzo 2 a 0 è perso no secondo il luogo alema perché non ti ha salvato il check prezzo 2 a 0 è perso 2 1 via elettricizzato volevi appunto va volevi oh volevi va va ringrazio a dio che non è verso di nuovo 7 a 1 si è allungato no ho fatto confondere no si volevi maledetta ciao qua sotto porca miseria no finalmente anche si no una palla in faccia 1 si 3 a 0 ma preso come preso io non ti ho visto proprio io vado stare una volta qua sotto porca miseria no finalmente anche si no una palla in faccia 1 si 3 a 0 vai troppo è una scivola grande può darsi che è utile volevi recuperarti un pochino ma mi butto pure io eh se tu ti butto volevi volevi vinco pure di poco capito però vai 4 a 0 ma non puoi fare tu 3 2 1 elettricizzato eh ma ti sembra tu ma vi vinco vinco pure di poco capito però vai 4 a 0 ma non puoi fare tu le regole scivolate che cos'è ma vieni elettricizzato eh tu che stai si sa te finito 4 a 0 per me vabbè comunque è stata una bella cara dai combattuta rispetto alle altre ok facciamo la copertina